Salve a tutti amici, ben ritrovati in questo nuovo video, ma soprattutto bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma prima se vi fa piacere potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale e potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Stanno emergendo dettagli sempre più scottanti su Ilari Blasi e Francesco Totti, alle prese con un duro processo sulla separazione. Nelle aule di tribunale si deciderà il futuro della conduttrice e dell'ex calciatore, anche se bisogna subito dire che entrambi hanno deciso di non presenziare fisicamente durante l'udienza che si è svolta nella giornata del 20 settembre. Ma sono stati illegali ad essere stati i protagonisti nel Palazzo di Giustizia. Ed ecco che sono spuntate fuori notizie ancora più clamorose su Ilari Blasi e i presunti amanti che avrebbe avuto durante il matrimonio con Francesco Totti. A riferire tutto è stato repubblica, ma poi la notizia è stata rilanciata anche da Libero Quotidiano. Innanzitutto è stato riportato che i difensori di Ilari e Francesco si sono presentati con le loro memorie e vediamo insieme cosa c'era all'interno delle stesse. Entrando nei dettagli, gli avvocati di Ilari Blasi e Francesco Totti hanno presentato le seguenti cose al giudice Simona Rossi, due lunghe trattazioni scritte in cui ognuna delle parti ripercorre i motivi che hanno portato alla separazione. Ovviamente ognuna dal proprio punto di vista. Tradimenti, mancanze, assenze sospette. Nonostante ci sia riservatezza assoluta, Repubblica e Libero Quotidiano hanno fatto sapere che dentro queste memorie ci sarebbero immagini e messaggi nonché relazioni di investigatori privati che confermerebbero l'infedeltà. Ovviamente sono versioni accese delle parti, quindi non è possibile stabilire cosa sia vero. Anche perché, come detto poco fa, c'è anche il segreto sulle carte. Poi Repubblica ha aggiunto, Per Totti è stata lei la prima a tradire, ci sarebbero date, chatte e, così pare, più di un nome. Sarà la giudice a decidere quali prove ammettere a processo e quali testimoni sentire. Anche se non se ne saprà molto di più prima dell'inizio del 2024, appare scontata la presenza in aula di Noemi Bocchi. La causa, infinita, potrebbe concludersi nel 2026. Per i Rolex, entro fine mese la collezione di orologi di Francesco Totti e Ilari Blasi verrà chiusa in una cassetta di sicurezza. Infine, è stato detto, a quel punto ognuno dei due ex coniugi farà i propri conti sui cronografi depositati e deciderà come procedere. Sarà una lunga ed estenuante battaglia giudiziaria e la sensazione è che i colpi di scena ce ne saranno uno dietro l'altro. Cari amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per la visione. Mi raccomando, lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina. Oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip, tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.